A 25 anni dalla sua scomparsa è stato ritrovato fra le carte autografe un inedito di Gesualdo Bufalino. Il copione, un dattilo scritto, con correzioni a mano e varianti applicate con lo scotch dallo stesso autore, reca come titolo. Io, Franca Florio, interlocutore del grande scrittore fu Alessandro Camon, figlio di Ferdinando, sceneggiatore che si era trasferito a Hollywood come produttore esecutivo. Piero Giunta, in questa intervista che stiamo per ascoltare, ne ha parlato con il presidente della Fondazione Bufalino, l'onorevole Pippo Di Giacomo. Ascoltiamo. Presidente onorevole Pippo Di Giacomo, è notizia di questi giorni del ritrovamento di un copione inedito di Gesualdo Bufalino. Lei è presidente della Fondazione Bufalino, oltre ad essere stato amico di famiglia del poeta Gomisano. La domanda è scontata, onorevole Di Giacomo. Le chiedo di cosa si tratta. Si tratta di una sceneggiatura che Bufalino scrisse su commissione. Il committente era un produttore americano, tra l'altro molto famoso per avere firmato alcuni titoli leggendari, possiamo dire. Per esempio Wall Street di Oliver Stone, con Kirk Douglas, che per quella interpretazione è bel premio Oscar. Oppure Conan il Barbaro, di tutt'altro argomento più popolare. Comunque dico queste cose per fare capire la valenza della produzione e anche la disponibilità ad un impegno economico non indifferente. Bufalino costruisce questo racconto, questa sceneggiatura. Lui non è uno sceneggiatore di professione, pur avendo avuto alcune esperienze da consulente con Sandro Bolchi per un progetto di una serie televisiva sui viceredi di Roberto, oppure per un suo stesso romanzo. Argo il cieco, lui definisce un timido abbozzo di scenografia, ecco questo suo lavoro sul suo stesso romanzo. Qui invece affronta un argomento celebre, leggendario, fascinoso, relativo alle vicende della famiglia Florio, ma soprattutto è incentrato sulla figura di Franca Florio, la bellissima, straordinaria e intelligente regina di Palermo, così veniva definita, che poi sopravvisse alla propria celebrità, alla propria fama. La sua fu una vita anche dolorosa, i tradimenti del marito, la morte dei figli. E quindi, insomma, nella sceneggiatura lui utilizza una tecnica cinematografica abbastanza ricorrente, che è quella del flashback, cioè quella di rievocare in età di decadenza i tempi del fasto. Quindi è un'opera questa che merita, a nostro parere, una sua attenzione, anche se attendiamo le valutazioni del comitato scientifico, del professor Ezzago, che è il direttore del comitato scientifico, per capire quali saranno i prossimi passi, diciamo, le prossime iniziative relative a questo lavoro. Ringrazio il presidente della Fondazione Bufalino, onorevole Pippo Di Giacomo, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica. Grazie a tutti.